un saluto a tutti i videoascoltatori d'Italia medievale oggi presentiamo un bel saggio appena pubblicato da Carocci dal titolo con tutti i sensi narrazioni del cibo tra medioevo e prima età moderna di Antonella Campanini che abbiamo il grande piacere di avere nostra gradita ospite e ci parla di questo interessante volume quindi io come mia abitudine le lascio subito la parola perché ce ne racconti qualcosa prego a lei piacere mio buongiorno a tutte a tutti ho pubblicato questo volume ci ho pensato molto prima di farlo ma avevo voglia di cercare di sondare come poteva essere la percezione dell'uomo e della donna nel medioevo nei confronti del cibo non era semplice secondo me e molto resta ancora da esplorare purtuttavia si potevano evincere alcuni elementi da determinati tipi di fonti per cui ho fatto innanzitutto una scelta selettiva ho pensato di occuparmi soprattutto di libri di ricette e di resoconti di banchetti tra il basso medioevo e la primissima età moderna ossia in un periodo in cui in generale la cucina in Italia e in Europa ha una sua sostanziale uniformità abbiamo dei caratteri specifici che caratterizzano chiedo scusa per il gioco di parole questa cucina che potremmo riassumere con quattro elementi diciamo si tratta di una cucina di tipo sintetico ovvero tutti gli ingredienti vanno a dare il loro contributo alla riuscita del piatto ma quel piatto al tempo stesso non valorizza un ingrediente in particolare cioè l'arte del cuoco è quella combinatoria di mettere tutti gli ingredienti insieme in maniera da stabilire un tutt'uno non esistente in natura in questo senso dalla natura si discosta dopodiché è il periodo di massimo utilizzo e trionfo delle spezie e del gusto agrodolce già da questi elementi evinciamo che si ricerchi in generale un equilibrio nel cibo che si vede si gusta perché anche la scienza dietetica nello stesso periodo sostiene che soltanto con l'equilibrio si può vivere bene quindi la cucina è volta anche a questo tipo di idea ora la nostra percezione di persone del ventunesimo secolo è profondamente differente da quella che potevano avere queste persone al tempo stesso dobbiamo tenere presente che non stiamo parlando di una società nel suo insieme ma soltanto proprio a causa delle fonti della sua elite i libri di ricette e i resoconti di banchetti sono infatti destinati soprattutto alle classi più elevate ai nobili al massimo possiamo arrivare i cavalieri nelle città o agli iscritti alle arti maggiori ma per il resto non possiamo avere attraverso questo tipo di fonte la percezione delle classi inferiori quindi occorre fare questo come premessa d'altro canto era questo per me l'unico sistema di per collocarmi in un ambiente che potrei definire quasi uniforme a livello culinario quindi l'ambiente di persone che possono scegliere che spesso hanno al servizio un cuoco professionista diremmo oppure al limite limite nelle grandi occasioni noleggiano un cuoco diremmo da catering oggi come oggi però l'idea è questa quindi dei cuochi che conoscono bene sia la scienza dietetica del periodo o per averla studiata anche in teoria o comunque per avere appreso dai loro maestri quelli che erano i principi che dovevano caratterizzare questo tipo di cucina e dei personaggi seduti a tavola che sono abituati a questo genere di cose è un periodo in cui c'è una grossa discriminazione cibo da ricchi cibo da poveri in realtà i ricchi utilizzano anche il cibo da poveri per avere maggiore varietà sulle loro tavole ma lo nobilitano con vari sistemi a questo punto mi sono chiesta i cinque sensi tutti e cinque possono essere rappresentati attraverso tipo questo tipo di fonte e facendo un discorso appunto prevalentemente elitario necessariamente la risposta è stata sì però c'è stato un po' da lavorarci sia a livello terminologico sia a livello generale di riflessione perché la prima cosa che balzava gli occhi è che il senso più rappresentato più importante all'interno di questo discorso era la vista magari uno non se l'aspetterebbe uno parla di cucina noi adesso ci lamentiamo di coloro che vanno nei ristoranti stellati e fanno subito la foto al piatto e si dice ma allora nel medioevo no nel medioevo sì la vista era il la carattere il senso probabilmente prevalente anche nel discorso culinario perché questo tipo di discorso applicato all'elite delle della società era un discorso innanzitutto politico si fa il grande banchetto per mostrare la propria grandezza per mostrare la propria potenza attraverso il cibo a quel punto questo mostrare ci riconduce direttamente al senso della vista anche per un'altra ragione la cucina è un'arte effimera quindi bisogna trovare un sistema per eternare questi banchetti se uno fa un banchetto meraviglioso e poi non ha la possibilità di fare le foto come nei banchetti odierni e non ha la possibilità di avere dei mass media che lo raccontano ai posteri bisogna trovare altri sistemi questi altri sistemi sono determinati dall'utilizzo di scrittori professionisti che sono chiamati a fare opere d'arte su questi banchetti questo significa che il banchetto non finisce quando tutti gli invitati dopo sei sette otto ore se ne vanno a casa perché tutto è finito ma viene esteso innanzitutto a quelli che non erano presenti a tavola e poi anche ai posteri ma a tutti costoro che cosa si può raccontare innanzitutto quello che si vede e quello che si vede non è necessariamente tutto commestibile tra l'altro e questo sarebbe un altro discorso che però i cuochi tutto sommato interessa un po' meno interessa di più a chi organizza il banchetto e quindi la vista è il primo senso a dover essere colpito influenzato altra cosa che va detta tra parentesi è che questi intellettuali scrittori che documentano questi banchetti spesso non sono seduti a tavola quindi non assaggiano neppure se non sanno di che cosa sa non ce lo raccontano c'è addirittura mi piace ricordarlo un personaggio piuttosto importante in un banchetto organizzato a Bologna nel 1487 che viene nascosto tra i musicisti visto che la musica in sala è continua per tutto il tempo del banchetto lui si nasconde sul palchetto dell'orchestra perché così vede sfilare tutto ma necessariamente questo non mangia sta sette ore a guardare cosa succede perché poi così può scrivere il suo resoconto che poi sarà un'opera d'arte questo è un altro discorso per cui innanzitutto abbiamo questo tipo di coinvolgimento che è un coinvolgimento visivo ma non ci basta il secondo senso ad essere rappresentato a mio avviso a livello almeno di frequenza in queste fonti è il senso del gusto e qui non ci meravigliamo il cuoco allora come ora deve assaggiare per sapere se è buono deve assaggiare per sapere se la cottura è finita questo è un altro problema i tempi della cottura non sono determinati con l'orologio sono determinati attraverso vari sistemi tra cui vedere come questo piatto incomincia a essere formato qui rientrerebbe anche il tatto a livello di consistenza però come viene anche formato a livello di sapori e di combinazione tra sapori e a quel punto si sa che è pronto per sapere che è pronto bisogna anche in questo caso assaggiarlo quindi si passa attraverso il senso del gusto ci sono anche dei trattati del periodo che sostengono che il gusto sia il più importante dei sensi perché è quello più vicino all'alimento stesso nel momento in cui la persona vuole gustare introietta l'alimento l'olfatto è come se si fermasse un attimo prima il gusto è molto importante anche per questo fatto e poi anche per valorizzare quell'arte combinatoria a cui facevo cenno prima se il cuoco è capace di creare un qualche un oggetto artistico che in natura non esiste ed è in questo periodo che si incomincia a parlare di arte della cucina a quel punto il suo gusto sarà particolarmente sviluppato questo stesso cuoco con tutte le sue competenze conoscerà quello che viene definito il gusto del suo padrone della persona per cui il banchetto è preparato e al tempo stesso una categoria interessante di cui purtroppo sappiamo ancora troppo poco che il gusto comune in alcuni libri di ricette si prescrive di preparare questa una determinata vivanda secondo il gusto comune ma per noi non è uno scherzo perché noi non conosciamo quello che il gusto comune ma riusciamo a dedurre che il cuoco del periodo che si ritrovava in mano quel libro di ricette sapesse qual era il gusto comune e anche questo mi è apparso un particolare molto interessante dopo il gusto il terzo senso ad essere rappresentato non è l'olfatto come si potrebbe pensare come legato al gusto ma probabilmente piuttosto il tatto il tatto serve innanzitutto per capire anche in questo caso quando una vivanda è pronta in base alla sua consistenza ma c'è un altro fattore che dobbiamo tenere in considerazione ovvero la temperatura di servizio è un fattore che per noi oggi sarebbe praticamente determinante al ristorante ci si arrabbia se arriva il piatto già freddo non va bene nel per in quel periodo non lo so onestamente perché comunque il fatto di mostrare ostentare questi piatti magnifici secondo me ha un po' la prevalenza anche rispetto alla temperatura di servizio noi abbiamo facevo prima alludevo a questo banchetto meraviglioso della fine del quattrocento a bologna e noi abbiamo una testimonianza che secondo me è molto interessante e queste vivande si dice prima di essere portate in tavola venivano fatte sfilare per la pubblica piazza affinché il popolo vedesse tutta la magnificenza quindi uno scopo chiaramente politico di questo banchetto cioè si vuole mostrare questo perché così tutti capiscono che il signore giovanni secondo bentivoglio in questo caso sta mostrando tutta la sua potenza e alcuni narratori di questo banchetto non ci spiegano che cosa stava succedendo in realtà l'idea di fare sfilare le vivande era bellissima ma c'è un problema pioveva c'era un maltempo c'era freddo e pioveva altri narratori ci narrano che in effetti gli invitati dovevano stare con delle specie di cappottoni sopra i vestiti importanti e lussuosi del banchetto di nozze ma nessuno ci dice che fine facevano questi poeri piatti se noi immaginiamo un piatto anche bellissimo mirabolante uno dei grandi classici è il pavone che viene cotto e poi rivestito con le sue penne piume fa la ruota e sputa fuoco dal becco come fa questo povero pavone cioè povero per altre ragioni magari ad arrivare in tavola esattamente come dovrebbe se ha fatto una cosa di questo genere per cui il pensiero che la temperatura di servizio non sia poi forse così determinante ci resta come dubbio altro discorso legato al tatto è l'utilizzo delle mani siamo ancora nel periodo in cui le posate individuali non sono previste salvo qualche eccezione solo italiana perché la pasta che in italia viene utilizzata molto di più che negli altri paesi europei è difficile mangiarla con le mani per ragioni tecniche abbastanza evidente ma la carne il pesce e tutte le altre vivande arrivano fondamentalmente già sporzionate sulla tavola oppure nei casi delle grandi corti dove c'è un funzionario particolare che si chiama trinciante vengono sporzionate sul momento e magari anche in maniera spettacolare perché anche questo è spettacolo anche questo piace però poi l'invitato considerato educato mangia con le mani mangia con le mani si pulisce mani e bocca nella tovaglia e ogni tanto passano delle vezzose damigelle con l'acqua profumata con i petali di rosa così più o meno si riesce a mantenere un certo decoro però è abbastanza interessante secondo me anche questo poi a livello di rappresentazione il quarto senso direi sia grosso modo l'olfatto che ha chiaramente una sua importanza ma in certi casi è difficile poi scenderlo dal gusto pur tuttavia abbiamo rappresentazioni di pochi che per decidere per esempio che cosa acquistare o che cosa invece lasciare sul banco del mercato perché non va bene sentono utilizzano il naso sperimentano in qualche maniera su se stessi anche il profumo della vivanda profumate sono spesso anche le sale dei banchetti probabilmente anche per togliere eventuali odori un po strani soprattutto dopo ore di servizi di piatti differenti e allora si usa anche mettere profumi sotto la tavola stecchi profumati eccetera per migliorare l'atmosfera dopodiché mi son trovata a voler completare e sistemare anche l'udito l'udito pareva un po più complicato di udito parlano gli organizzatori dei banchetti gli scalchi soprattutto loro perché sono loro che organizzano gli intrattenimenti per lo più musicali e in parte anche di prosa che si svolgono durante tutta la durata dei banchetti oggi per il musicologo odierno che studia la musica medievale questi resoconti di banchetti magari scritti da organizzatori di banchetti da scalchi cosiddetti sono estremamente interessanti perché non ci racconta esattamente che cosa suonavano ma ci racconta per esempio gli organici musicali che venivano tirati in ballo e in base a quelli il musicologo che ha studiato per questo riesce anche quantomeno a fare delle ipotesi su che musica risuonasse quello che purtroppo invece manca soprattutto dai banchetti dei personaggi più importanti sono le piacevoli conversazioni di tavola che devono avere avuto luogo i banchetti sono come ci scrivono tra l'altro moltissimi letterati umanisti nello stesso periodo sono delle occasioni particolari per stringere alleanze per parlare di argomenti anche elevati eccetera ma probabilmente tutto questo è talmente segreto che nessuno ce lo racconta questo è uno dei limiti della fonte però tutto sommato un po di cose ce le ha già raccontate e quindi probabilmente per il momento possiamo appagarci con un limite generale che avendo io deciso di fare ricorso soltanto a queste due tipologie di fonti quindi resoconti di banchetti e libri di ricette avrei potuto invece analizzare per esempio tutti i risvolti filosofici religiosi e via dicendo perché il discorso sui sensi è un discorso ben più ampio di questo piccolo che ho voluto fare ho voluto fare qualche cosa di piccolo e mirato sperando che questo facesse poi venire voglia ai miei spero futuro futuri lettori di avvicinarsi a questo tipo di discorso che poi potrebbe avere successivi approfondimenti anzi si presta a sviluppi enormi è davvero molto interessante perché noi siamo abituati a sentir parlare di questi banchetti però facciamo fatica a immaginarli e spesso ne abbiamo un'idea distorta dai media moderni quindi dal cinema ma anche dalla letteratura ci immaginiamo cose che poi in realtà magari non succedeva nemmeno e quindi davvero è davvero un libro da correre a comprare subito per togliersi queste curiosità su un tema di comune interesse perché chi è che non non ama la tavola è la buona tavola quindi io ne sono davvero molto grato e intanto ne approfitto per ricordare il titolo così possono correre in libreria il titolo è con tutti i sensi narrazioni del cibo tra medioevo e prima età moderna appena pubblicato da carocci fra l'altro è acquistabile anche sul sito dell'editore con il 5 per cento di sconto e già il prezzo è molto invitante perché sono 13 euro quindi possiamo tranquillamente fare questa spesa e io io la ringrazio molto starei ora a sentirla e a parlare di questi argomenti che sono fra l'altro rari nella letteratura di questo genere e quindi non posso altro che ringraziarla per per aver accettato il nostro invito ricordo a tutti i nostri video ascoltatori di seguirci sul nostro canale youtube dove troveranno oltre a questa tutte le video presentazioni realizzate fino ad oggi e con questo la ringrazio ancora e la saluto grazie a voi e buona lettura dunque grazie a voi grazie a voi grazie a voi grazie a voi